Non importa, intanto, allora senti, il Magic Titans, Titans tanto la pronuncia esatta, no? Allora, diciamo, è iniziato con quali obiettivi? Intanto questo penso sia stato il nostro primo obiettivo, provare a metter su una squadra in poco tempo, abbiamo avuto poco tempo. Vabbè, questo per partecipare al torneo del Memore, al Daniele Pucci per l'Unicef. Ovviamente sì, è stato il nostro obiettivo principale e anche per testare un po' i componenti della squadra, per vedere un po' quanto potevamo metterci in gioco e ora magari vediamo, appunto, con questo rodaggio, se riusciamo a fare qualcosa di più con la prossima stagione. Senti, una cosa veloce poi ti lascio alla tua partita. Ho notato che giocate molto bene in inferiorità numerica. È vero, abbiamo giocato molto bene in inferiorità numerica. È stata una bella partita, purtroppo non c'era il portiere, c'ero io, quindi era tutto un altro discorso, però abbiamo giocato come De Leoni, penso, abbiamo dato il 10% per certo. Infatti, i commenti, i video, vanno tutti bene, tranquilli? Sì, sì, perfetti. Bene, bene. Ok, massima soddisfazione. Molto soddisfatto, sì. Bene, grazie, allora buona partita. Ciao.